SOS Arezzo TV, buona serata, caro Beppe, per me piange il cuore perché personalmente ero molto legato all'Union Tinkimera come società, abbiamo fatto tante partite, tanti eventi. Perché giocavi al pallone te? No. Ah ecco, perché non ce l'hai la stazza di giocare al pallone. Hai detto una cosa giusta, ogni tanto dici una qualche cosa di giusta. Siamo venuti tante volte qui a riprendere le partite, tra l'altro un anno, quando c'era la precedente gestione, arrivarono a essere i campioni regionali del campionato allievi e quindi facciamo tutto il cammino fino alle finali nazionali. Sarà una struttura veramente bella, vederla così tutta chiusa. Poi abbiamo saputo adesso dal comunicato ufficiale dell'assessore Tanti, qui doveva venirci l'Arezzo, che secondo me è una delle più belle, forse la più bella struttura del comune. Abbiamo saputo che non andrà all'Arezzo, che invece si è fatto un accordo per due giorni con l'Olmo Ponte, perché ci sono delle problematiche di natura edilizia e quindi, dicella tanti, questi campi sono inutilizzabili. A quest'ora, poi sono circa le 18, insomma 17-18, qui era un pullulare di bambini, di ragazzi, a tutte le ore, poi ci giocava la Wisp, cioè era frequentatissimo veramente fino a tarda sera. E l'impianto è veramente bello. Ecco, vederlo così, piazzale deserto, tutto chiuso, tutto spento, mette veramente tristezza. D'altro noto c'è stata una gestione che ha portato al fallimento della società che lo gestiva, bisticcio di parole, però purtroppo questa è la situazione. Oggi qui è completamente chiuso, l'azienda è fallita, il curatore ha restituito l'impianto al comune di Arezzo, sul quale comune di Arezzo poi si è trovato delle strutture che non sono norme secondo le leggi edilizie e quindi non può darlo ulteriormente in gestione se non quando è sanata tutta l'operazione. Sanare vuol dire o fare una legge che sana l'abuso, ma la vedo veramente dura, o forse abbattere tutte quelle strutture che sono non in regola con le norme edilizie. Facciamo la fine di Frassinetto? La sai Frassinetto? Che ci sei fatto? Bellissimo campo, bella struttura, le patate. E quindi se dici anche qui di farci le patate, se non ci si muove e si trova una soluzione, perché poi ci sono campi in sintetico, campi molto belli. Tutte le porte, le porte a calcetto. Ma se non lo mantieni questa struttura va tutta in degrado, quindi bisogna che l'amministrazione pensi a fare la svelta, a sanarla, a modo tale da poterla ridare in concessione. Ma come si sana? Buttando giù tutto mi sembra che è assurdo. Buttando giù le parti che non sono a norma. E se paghi in chi è a norma butti giù tutto, cioè è assurdo. Perché è uno spreco di... Spreco. Se d'altronde non è a norma non ci entra a fare. Un privato se fa una casa non a norma gli viene abbattuta. Se qui è stato fatto delle cose non a norma devono essere abbattute, non ce ne entra a fare. Al di là di come è stata la gestione, però siccome sono del comune, chi doveva controllare perché non ha controllato o non poteva controllare? Ti fa una domanda un po' difficile da rispondere adesso. Prima di tutto il comune di Arezzo o chi per esso logicamente avrà visto queste cose. Tutti colori qua, qui chi capisava, gli uffici di manutenzione, queste cose qui. E quindi non è che sapessero... Perché tu hai fatto l'esempio della casa. Non è che sapessero... Tu sei il proprietario di una casa. Sì, ma tutti i tecnici del comune che venivano giù, l'ufficio di manutenzione, il politico, non sapevano assolutamente che ci sono delle difformità edilizie. E come fai? Lo vedi soltanto se ha vedere le carte. Nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto niente e si è andato avanti. Però scusa, se tu hai fatto l'esempio della casa, tu dai la casa in affitto a una persona, questa persona ci fa dei lavori che non potrebbe fare, chi è il responsabile? Il proprietario o l'inquinino? Il responsabile dell'inquinino perché l'ha incontrato l'affitto e c'è scritto che non può seguire certe opere. Il proprietario non risponde. No, il proprietario se vede questi abusi è obbligato a far seguire gli abusi. Il comune però li ha scoperti, potrebbe fare un'indagine interna per sapere se questa cosa... Non perde tempo, quindi il comune deve abbattere quello che c'è da abbattere e poi riconcedere le licenze edilizie necessarie e fare quello che deve essere fatto. Oggi come oggi il comune, secondo me, non può sanare questa situazione. Questo qui lo deve prendere in carico a posto. Una volta che è a posto vuol dire abbattere certe strutture che dice sì che sono diformi alle licenze edilizie. Una volta abbattere tutte le, si può rifare poi quello che vuole, però prima va messa in regola. Una volta messa in regola il comune lo può dare in gestione. Poi chi la prende in gestione chiederà certe licenze e se gli faranno concesse farà. Se non gli faranno concesse lascerà così com'è. Tra l'altro è stato fatto anche un ristorante, era diventata una struttura, era uno dei punti di vanto, mi ricordo anche i bambini che venivano qui, era quasi un campus, perché i genitori, mi ricordo, tanti erano contenti di lasciarli qui anche oltre all'allenamento perché era tutto al sicuro. C'era un bello staff. C'era un bello staff, veramente sì. Cioè, istruttori qualificati, non è per fare la marcord delle cose che non ci sono più, perché spesso in certe società anche gli istruttori non sono stati scelti in modo, non sempre almeno, ecco, proprio il top. Qui vedete, insomma, rimangono queste insegne, ingresso, tribune, spogliatoi, insomma. È veramente triste. Purtroppo Arezzo e le strutture sportive, è un altro rapporto come Arezzo con i bagni, che ce ne sono poche di strutture sportive, alcune vengono lasciate in questi stati, perché poi chissà quanto durerà, mi auguro di no, però il timore c'è che possa perdurare. Ci sono altri campi in provincia, tu hai fatto l'esempio di Frassinetto e nel comune, che sono stati poi lasciati così, in condizioni non curate. Questa veramente è una struttura che sarebbe all'avanguardia, non ci si può permettere di lasciarla andare in malore. Quindi facciamo un appello ai nostri amministratori che si muovano a far sì che questa struttura possa essere reperta alla svelta e muovere poi da dare alla città un servizio, perché in questo settore c'è bisogno di un servizio e ci bisogna anche una società seria che poi la riprenda a gestione e faccia quello che deve fare. L'Arezzo poteva essere veramente, era un campo d'Arezzo questo, uno dei pochi che poteva essere d'Arezzo. L'Arezzo poteva veramente fare. O comunque speriamo di vederci presto altri bambini, soprattutto tornare a giocare qui e che torni un luogo frequentato che poi vedete così tutto deserto, insomma mette anche una certa tristezza. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao.